Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Pochi giorni fa ho fatto un sondaggio su Instagram E il più votato da voi è stato scherzi Quindi vi ho accontentato E' venuto fuori un video molto epico E sono molto soddisfatto Vi lascio al video, buona visione Ciao a tutti Maria So Mi senti? Sì Stai sopra adesso? Sì sì Ok Allora io avevo lo spettacolo che arrivavi a casa Però visto che arrivi alle 7 Quindi te la dico qua Visto che tanto non faccio ridere nessuno E le visualizzazioni sono tanto calate Ma che ridi? Ma è uno scherzo Ma è uno scherzo? Mi fai un attimo parlare? Vabbè So serio Maria So Non sto più in giro o cose varie Vabbè Visto che le visualizzazioni sono calate Tutto quanto Io ho deciso di eliminare il canale Che sei scemo Ma sì Ma dopo Dopo tutto quello che abbiamo fatto Dopo tutti gli sforzi che ci abbiamo messo Sì però Ma io so Ma lo vedi Sì ma lo vedi che nessuno ci mette più mi piace Nessuno ci commenta Ma non è vero Ma sai come persone che ci commentano Tra le tante persone che ci mette più mi piace? Io ho pensato Ho pensato Di far solo music Che lì ci sono Ma ci sono Ma lì ci sono Ma lì ci sono Ma lì ci sono Ma anche no Non vedi che mi giudicano Tutti mi giudicano Mi dicono Mi dicono Che non sono bravo Perché ci hai fatto Perché ci hai fatto Perché ci hai fatto Perché ci hai fatto Il video Delle crivi Delle crivi Che tu delle crivi Sì delle crivi Cattento Tu delle crivi Che te ne devi fregare proprio Sì ma Se me lo dicono più persone Significa che è vero Cioè che faccio schifo Quindi è inutile Che continui a fare i video Ma è schifo Finissimo Tu devi realizzare il tuo sogno Senti Se lo limino Che succede? No Se faccio solo music Che succede Che temeno De botte Se lo limino Tutti gli sforzi che ci hai messo Tutte le sudate Che ci hai messo Ora Che stai Che stai quasi Al tuo raguardo Che vuoi smettere In quel cielo In improvviso Perché Questa è la gente Che ti giudica Tu smetti In quel cielo In improvviso Ma Tanto è inutile Non lo vedi Che le visualizioni Sono sempre le stesse Cioè Non aumentano mai I mi piacciono Non aumentano mai Solo sulla soledico challenge È impossibile Non è vero Questo Questo succede Nella tua mente Succede Ma invece Ma sai Quante persone Ti vogliono bene Perché ti stimano tantissimo Ma lo sai Quante persone so Quindi Cioè Quasi si sono mili iscritti Ma che Ma che Ma che c'è De mo' elimina così Perché tu so Della gente Che ti insulta Ma c'hai fatto Ma c'hai fatto Ma c'hai fatto quel video C'hai fatto Eh lo so Però Perché i soldi Però mi hanno detto E che i soldi Devo non circolare addosso Sì però Mi hanno detto Che è inutile Che faccio quel video Perché faccio le parodie Non puoi lasciare ormai Semi mili iscritti Dopo 5 anni O anche 6 Che fai video su youtube E dopo un certo punto Vuoi mentire Perché la gente Che ti geminia C'hai fatto quel video Ma sto da solo E non ti spiegare niente Sto da solo Nessuno mi aiuta Cioè ci stai solo tu Che mi aiuti Quando vuoi È impossibile Ma io so Ma come è possibile Ma sei scemo Ma che ti Ma che ti Di trota Oh Ma vuoi Mi tranquillino Tutto Se non è iscritti Vabbè Siamo Siamo passi alla fine Cioè Manca mai Quello Che ti sogno E tu vuoi E eliminare Tutto L'improvviso Perché Anzi Che tu Dici Da Per questo Ma ti faccio Pure il video Che non te ne fregava Niente Della gente Oddio Un'ape Tenta Sì Ma non lo vedi Poi non faccio più Ridere Poi i video Cioè Fanno schifo Non riesco E esprimermi bene Parlo male Ma che stai Ma che stai Oddio Se fra un po' di giorni Faccare E registrare Il video Che i miei followers Contano La mia vita Per 24 ore Guarda che Quello piace Alla gente Tanti nutre Dopo sei anni Se ancora Nessuno Mi caga Ci sarà Motivo No Faccio schifo No Cioè Perciò Perche cosa Per niente Trossidore Lacrime Senti un po' Ma se ti dico Che era uno scherzo Ti arrabbi E se ti dico Che ti devi andare In Ma Oh my god Un bacione Maria Sole Grazie mille Che lei mi aiuta Tantissimo Con i video Spero che lo scherzo Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace E iscrivetevi al mio canale Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Addio 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 Amici Addio Addio Venite domani da noi Ciao